Tragedia questa notte a Pagani. Un uomo è stato investito in via De Gasperi nei pressi del centro sociale. A perdere la vita un 83enne del posto, Santino Sardo, sceso in strada probabilmente per prendere una boccata d'aria. L'anziano sarebbe stato prima speronato da un'auto e poi trascinato da un'auto articolato per circa 300 metri. Gli effetti personali dell'uomo sono stati trovati, disseminati sulla strada. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri della scientifica del reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno analizzato tutto il tratto di strada interessato, chiuso fino alla tarda mattinata. Importante ai fini della ricostruzione della dinamica e dell'individuazione dei responsabili la visione dei filmati della videosorveglianza di alcune attività poste nei pressi.